Sono di Brea, condividete. Anzi, vogliamo essere aperti e vi chiediamo la vostra partecipazione, perché senza partecipazione non possiamo farcela e abbiamo bisogno di voi. E so per certo che molti di voi sono venuti qui ovviamente per salutare Alessandro, però bisogna anche ricordarsi che quando Alessandro se ne andrà i problemi della nostra città resteranno. E per questo che io... Io voglio fare un ancorato appello alla nostra comunità di sostenerci, perché il Movimento 5 Stelle sostanzialmente funziona così. Sono persone che si mettono in gioco e ci date una mano. Non abbiamo apparati, non abbiamo strutture. Molte delle cose che sentite sono invenzioni giornalistiche. La realtà è molto più dura e che senza di voi non possiamo farcela. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per la pazienza. Questa chiesa sponsagrata sembriamo dei carbonari. 211 siamo stasera, non ho calcolato. Nel Re dei Medici, che sono minoretti, nei giornalisti. 211 persone possono fare un sacco di cose. Quanti sono i pori e i esicoli? Quasi tutti. Importante. Ho studiato, eh? Come si chiamano gli abitanti di Brea? Poi prima vedevo la donna patria, i ricordi elementari, affluente del Po, che nasce con la vostra 178. Non pensavo di si stessa, perché la storia mi sono lei. Sai, queste robe mitiche, la donna patria, come il minotauro, che ci esistono. Sì, lo diceva Pier, insomma, la partecipazione è quella che conta, il fatto che siamo così tanti stasera e evidentemente c'è poi la partecipazione. Io non sono di Ivrea, non mi candido qui, ho anche scelto i miei candidati di Parlamento per una mia scelta personale, ma sono qua perché credo fermamente nella partecipazione, perché credo fermamente che sia compito la cittadina e i falsi stati. Io non ci credo al concetto di classe dirigente, che se ci pensate si dice sempre classe dirigente, che significa che qualcuno ha più capacità di dirigere, mentre il popoluccio deve essere diretto. Io non ci ho mai creduto a questa roba. Vi raccontate che siamo qui stasera, vi racconto un po' la mia storia del movimento. Io nel 2007 non esisteva neanche il Movimento 5 Stelle, però partecipare a un gruppo, eravamo molti meno di stasera, a Roma, cittadini che volevano organizzarsi per provare a portare avanti delle idee appunto della mia città e candidarsi al Comune, ancora prima appunto che esistesse, che fosse fondato il Movimento 5 Stelle. Io mi presentai nel 2008 a Roma, in un municipio, con una circoscrizione, e presi zero voti io. Non mi sono neanche votato da solo, perché votavo, non mi volevano vestiti lui stessi. E ricordo che una volta ci vedemmi in un bar, in un quartiere che si è nato a Revettia, eravamo quattro, e stavamo lì a buttare giù un programma comunale. E arrivò il cameriere, il barista, che prendete? Sono due birre, due abberitivi. Che state efficiente? Ci chiese. Noi stiamo provando a costruire un programma per la città, perché crediamo appunto al cittadino che si fa stato. Questo voi, voi quattro, è un programma? Sì, noi. A distanza di qualche anno due persone, due quattro, sono diventate parlamentari della Repubblica. Oggi a me conoscono tante persone, leader politico, non è qualcosa per me che non funziona. E ancora si dice la classe dirigente. Noi eravamo tutti sconosciuti cinque anni fa. Pure oggi siamo la prima forza politica del Paese. Quindi probabilmente quello che appunto dobbiamo riscoprire insieme alla comunità, la voglia di partecipazione, diventare sindaci dei propri metri quadri. Questo è il Movimento Cinque Stelle. Sì, la stampa, le critiche che ci fanno gli altri partiti, ma i partiti politici tentano di sopravvivere, perché sono vicini alla loro sparizione politica. Vedete, da una parte a sinistra, prima che lo nominavate appunto Renzi, io ho scelto di terezizzarmi e anche io vi lo nominiamo. Notavo che ormai non c'erano neanche più alleati, addirittura Alfano l'ha abbandonato. Guardate che adesso l'ha abbandonato di Alfano. E poi in realtà l'hanno fatta per affossare il Movimento Cinque Stelle. che si stanno affossando da soli. Dall'altra parte si vede che c'è. C'è questo cazzaro, scusate il termine, questo è un buono squadre. Altre espressioni che continuano un po' di scrotta, parlare al meglio dei vostri lavoro, le dentiere per tutti. Io ricorderò nel prossimo giorno tutto quello che ha fatto, soprattutto una sentenza, è quella sentenza su Dell'Utri, che fondò Forza Italia in carcere per aver favorito Cosa Nostra. Infatti mi fanno... Io ce l'ho a morte con l'ipocrisia, che per me è peggiore del malaffare, la destra sociale. E poi va insieme a un partito che sta fondando un indizio che ha sostenuto quella stessa idea di coorganizzazione che ha fatto saltare i mani a Borsoli. Da qui alle prossime elezioni ci saranno tentativi di terrorismo mediatico da parte di questi soggetti. Berlusconi farà il giro delle sette chiese e un vettore mi dirà che vogliamo entrare a patrimoniale, che vogliamo la tassa di successione, che odiamo la classe media. State tranquilli, tutte le loro versioni di televisioni mi propageranno questo messaggio, ma è terrorizzato, ma fa bene ad essere terrorizzato, perché faremo una legge antipolazione e gli rispondiamo un partito. Com'è? Vedete, siamo accusati spesso, non hanno programmi, non hanno idee, stasera per un'ora e mezza abbiamo parlato soltanto delle idee da portare avanti in questa città. Io spesso quando partecipo a questi incontri mi domandano, ma voi cosa potreste pensare? Perché tanti anni scoppiamo parole, chiacchere, perché io mi dovrei fidare, uno dei nuovi 5 stelle, dopo che mi sono fidata tanti anni di altri. Io scelsi di far parte del movimento proprio perché a un certo punto non mi sentivo più rappresentato, quindi l'alternativa era espadriare. Stavo all'estero, tra l'altro, lavoravo all'estero, non avevo neanche così tanta intenzione di tornare, perché vedevo che avevo più opportunità fuori dal mio paese, questa è la verità. Poi decisi di tornare, dopo un viaggio molto lungo, io scrivevo, mi occupavo di rapportaggi sociali, di cooperazione internazionale, che tra l'altro questo è il mio lavoro, è quello che voglio tornare a fare. Io soltanto per questo ho deciso per candidarmi, perché non sono particolarmente, tra l'altro, affascinato, chi mi conosce lo sa, ad Abondrone, ho voluto dare un contributo e lo darò fino alla fine a fare una campagna elettorale da non candidato, e sarà bellissimo, no? Fare una campagna elettorale da non candidato. ho detto, ho detto, neanche mi dovete andare a fare. Ma se io voglio tornare a mio mestiere, nulla mi impedisce, nessuno mi impedisce tra qualche tempo di tornare, di candidarmi, se forrò, però non l'ho deciso, perché credo fermamente appunto in un coinvolgimento dei cittadini, ho dato l'anima a questi cinque anni, come ha dato l'anima a io, non soltanto un collega, ma proprio una persona che stimo tantissimo. Appunto perché dovreste credere al Movimento 5 Stelle? Perché veniamo da Marte, noi non veniamo da Marte. Io quando sono entrato in Parlamento pensavo, questa è una delle tante cose che ho imparato in cinque anni, ma adesso sono stati cinque anni veramente in primissima linea, e pensavo appunto che si trattava della Tana del Leone, è una masca di squali quel palazzo, estremamente distaccato dalla realtà, anche per questo io voglio un po' riprendermi un po' di libertà. Però io credevo appunto che ci fossero tutti i ladri, non è così, ci sono persone oneste in tutti i partiti politici, il dramma è per me la politica come professione, cioè il concetto io entro in quel palazzo e devo far di tutto pur di restarci tutta la mia vita, perché la mia professione è la politica, mentre la politica non è una professione, e da lì non per continuare a sederti in quelle controlle magari c'è dei compromessi con la tua coscienza, con un'altra forza politica, con qualche criminale che ti porta voti, perché succede anche questo. E poi l'altra questione appunto drammatica sono i finanziamenti a partiti politici. Io ho capito che la forza, io credo fermamente il Movimento 5 Stelle, è anche in virtù di come si finanzia. Cioè una forza politica che si autofinanzia, attraverso micro donazioni di media 18-19 euro, i cittadini ci danno 18-19 euro, certo che ho bisogno di sostegno economico per fare campagna elettorale e tutto quanto, anche se ci vedete, siamo sempre in piazza, non abbiamo una sede, siamo la prima forza politica in piazza e non abbiamo una sede, i partiti politici si vedono da una parte e dall'altra segni contro segni, noi non ce l'abbiamo, anche per quello siamo riusciti a riuscire alle 40 giorni di obiettivi di forze elettorali. Facciamo un po' di ringrazio. Facciamo un po' di ringrazio. Utilizziamo la rete, siamo in un collegamento diretto, adesso c'è un cellulare, il mio cellulare, il mio cellulare. La voce dicono? Vabbè, cercherò di, perché dicono sempre che vogliamo, perché pure li movimentano questi 5 anni, è difficile mantenere l'equilibrio, vivi sempre, cammini sempre su, siamo quasi funamboli, e se sbagliamo qualche passo in questo paese strano che si dici cazzo ti stanno rubando dentro a casa c'è qualcuno che si scandalizza per il cazzo. È un paese molto strano, molto pervenista per certi versi, grillo urla, ascoltiamo quel che ha detto questo uomo in questi anni che si è giocato parte del suo lavoro per dare una mano a creare un'evento circostante. Questa è un'altra. 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 brava versione in tutti i partiti politici, il dramma è questo concetto di politica per professione che a un certo punto ti guasta, per cui abbiamo la regola di due mandati, perché ci devi stare un tempo limitato in quei palazzi, credetemi, uno perché c'è tanta vita anche fuori dai quei palazzi, due perché se tu sai che a un certo punto dovrai uscire da quel palazzo e tornare nel mondo reale, è nel tuo stesso interesse lavorare al meglio proprio perché dovrai migliorare con la ragazza e poi finanziare nel momento in cui grandi gruppi industriali, lobbisti, finanziano con un cospicuo somme di denaro i partiti politici, in un certo senso è come se li ammanettassero, se li mettessero delle manette, li legano, io ricevo un grande finanziamento per cui dovrò in qualche modo restituire il favore e lo restituirò o attraverso delle leggi fatte o delle leggi non fatte o attraverso magari appatti tanto paga la collettività, così è il sistema, io ricevo dei grandi finanziamenti riesco a farmi eleggere anche grazie ai finanziamenti perché mi pagano la campagna elettorale o mi porto in alcuni territori i pacchetti di voti una volta che sono stato eletto devo restituire il favore a quello che mi ha portato dei pacchetti di voti per questo le opere in Italia oltre per l'assenza di una legge anticonozione ma sono correlate e costano così tanto rispetto alla Francia rispetto alla Germania o rispetto alla Spagna per questo sistema il movimento l'ha sgarbinato con la regola di due mandati e con le micro donazioni io mi fido di una forza politica che si finanzia attraverso micro donazioni di decine di miliardi di cittadini e non una maxi donazione di un grande gruppo industriale un gruppo un lobbyista questo è il concetto poi sì ce l'hanno a morte con noi i grandissimi editori poi non ce l'abbiamo mai avuta cioè una giornalista ve lo dico io non ce l'abbiamo siete sempre benvenuti con i cronisti con le persone che fanno il mio mestiere onestamente io me la sono sempre presa con i grandi gruppi editoriali questa impresa gloriosa che avete avuto che ha fatto la storia veramente del mondo l'olivetti è stata spolpata dal signore che si chiama De Benedetti quando io provo a nominare in televisione non ce l'abbiamo a morte con De Benedetti proprio perché conosceva De Benedetti la sua storia era legatissima mi permetta dire che ha tutta quella storia industriale meravigliosa innovativa una fabbrica che porta avanti anche giustizia sociale crescita culturale dei propri dipendenti dei propri rai una roba incredibile è arrivato questo soggetto che l'ha spolpata che c'era per essere la numero uno del partito democratico e ha il gruppo editoriali ad espresso non so anche la stampa qualcosa non so di effusione se non lo facciamo ce l'hanno con noi perché gli vogliamo far pagare le tasse i grandi gruppi editoriali finiamo a polire del tutto il finanziamento pubblico all'editoria diretto e indiretto perché vogliamo cacciare i partiti dalla rai ce l'hanno per questo con noi per questo ci fanno una guerra e non è male a Caltagirone a Roma gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi e lui è il proprietario del principale quotidiano di Lonsi a Massimo io vi potrei raccontare tanti episodi su quel palazzo perché l'ho frequentato per cinque anni sono entrato Pischello si dice a Roma a 34 anni esco fuori uomo cresciuto anche anche con l'idea di avere le mani veramente pulite io si può dire forse di avere le mani pulite soltanto se si ha l'occasione di sporcarsene e non lo si fa e io ho l'occasione noi io e Ivan ho l'occasione di sporcarci le mani nel senso negativo del termine ce l'abbiamo avuta mica per forza rubare però passare al gruppo misto lo fanno in tanti passi al gruppo misto guadagni 12-13 mila euro al mese non subisci gli attacchi immediatici lavori dal martedì pomeriggio a giovedì sera c'hai libero il venerdì il sabato la domenica il lunedì il martedì mattina e che ti prendi 12-13 mila euro al mese l'avrei potuto fare oggi avrai molti più soldi e ho bisogno di soldi come tutti quanti voi nel senso ho una famiglia e devo trovarmi un altro lavoro me lo chiedeva l'altra volta in tv la gru come cambierai mi trattengo sempre però mi è sembrato bello dire come qualsiasi comune mortale mi troverò un lavoro d'altro canto ho avuto tante opportunità sono conosciuto e sono anche più facile chilo nega chilo nega nonostante mi sono sentito molto bene nel dire questa frase mi sono successe delle cose in questi 5 anni incredibili ripeto e ho capito che forse la nostra forza è stata troppo continuare sempre a stare in piazza continuare a fare attività del genere oggi alle 3 e mezza io ho finito di fare il brodo stamattina perché la mia compagna sta poco bene c'ha la cuore quindi l'ha fatto il brodo e alle 3 e mezza dovevo prendere il taxi dell'aeroporto per venire qua non mi andava non mi andava per niente allora i miei compagni mi fanno inventati una scusa con Ivan di che sto male poi no gliel'ho promesso appena ho detto con Ivan appena siamo atterrati io sono atterrato a Torino mi sono a prendere mi è subito venuta voglia cioè fondamentalmente per me in questi anni girare tutte le piazze tutti i luoghi di parte è stata un'occasione ripeto che di vedere la dora basta no pronto di stare con tanti cittadini se noi non ci contaminiamo è proprio in virtù di questa partecipazione la stessa cosa la dovete fare con questo gruppo ripeto siamo a 211 stasera magari 200 di Ivrea 200 persone organizzate desiderose di cambiare le cose che sostengono un gruppo che danno idee ma è un esercito bellissimo cioè 200 persone organizzate possono fare 200 persone quanti abitanti si è per 25.000 quasi l'1% se non sbaglio della popolazione c'è 200 persone che fanno un lavoro qui vi rendete conto che potete fare veramente una rivoluzione meravigliosa qua e a me a noi ci ha salvato questo le piazze la partecipazione tutti questi eventi io appena ascoltavo queste persone raccontare le loro idee era bellissimo sono stato bene stasera e questa è stata appunto la nostra forza di appunto riuscire in un certo senso uscire da quella logica di chiusure di distacco dalla realtà che ti può portare a fare vedere un palazzo ma è un palazzo per certi versi infernale per certi versi poi io amo l'istituzione alla follia però veramente è un palazzo strano dove se ti cade qualcosa arriva qualcuno che te lo raccogli ti chiamano il doppio onore euro della repubblica come se tu fossi più importante del popoluccio che è fuori ed è lì che si guasta l'idea cioè se io sono onorevole sono più importante del popolo evidentemente quel privilegio rispetto di diritto attenzione non è un privilegio è qualcosa di giustizia c'è quel lato blu rispetto a che io sono onorevole della repubblica che iniziano a cambiare mentalmente giustifichi non giustificabili magari quel corrotto lì non è un corrotto ma un imprenditore che porta avanti il territorio in un certo modo magari quella non è una mazzetta ma una regalia ne ho bisogno anzi mi è necessaria anzi me la merito proprio perché sono onorevole della repubblica e sono meglio del popoluccio tant'è vero io cammino il popoluccio viene da me e mi chiamo onorevole della repubblica entro dentro la camera e si mettono sull'attenti carabinieri e si mettono sull'attenti pure se ad entrare è un tal Luigi Cesaro l'autista del fondatore della nuova domora organizzata attuale parlamentare di Forza Italia che si siede a 12 metri da me quando io dico a mia madre che vado in Parlamento e mi dice stai in dentro non franca la mano è così difficile la politica ma voi che ne vedete la mente sia così difficile la politica che cos'è la politica avere delle risorse e spostarla quello che hanno detto loro per l'Italia funziona anche a livello nazionale che cosa vogliamo fare vogliamo costruire qui vogliamo sistemare questa piscina comunale vogliamo sistemare il castello vogliamo creare un polio importante un bottista culturale nella fabbrica dell'olivetti che cosa prendiamo delle tasse dei cittadini e decidiamo non facciamo quella grande opera perché non ci serve a nulla magari mettiamo in sicurezza le scuole perché a tutti i cittadini interessi imprimiti alla sicurezza dei bambini che vanno alla scuola e veramente complimenti cioè dei consiglieri ma vi rendete conto dei consiglieri regionali si tagliano lo stipendio soldi che per legge rispetterebbero come rispetterebbero a me tutti i soldi che ho restituito oltre ai 210 mila euro tanti soldi 210 mila euro io ho restituito molto di più di quello che ho guadagnato e ho guadagnato benissimo quindi non mi è mancato nulla per la mia attività politica e hanno sistemato due scuole con un progetto appunto della regione di Piemonte ma quando mai si era vista una roba del genere mi sono capitate delle cose pensate stavo facendo un comizio qualche mese fa a Gorizia mi sta vicino un signore e mi dà una busta io pensavo alla solita segnalazione magari per fare un'intervozione parlamentare torno a casa a Roma non l'apro subito la metto su un comodino dopo qualche giorno mi viene in mente perché poi leggo tutto quello che mi date sempre magari rispondo mi ci vuole un po' di tempo l'apro e c'erano dentro 40 euro cash con scritto sai so che stai per diventare padre ti volevo dare una mano 40 euro al figlio l'ho chiamato questo non posso accettare non posso accettare no questo si è arrabbiato tu sei un mio dipendente in Parlamento hai l'obbligo di prendere i soldi alla fine abbiamo contrattato lei ha fatto una donazione al movimento ma proviamo a riappoggere il nastro e poi ce lo vedresti mai è un cittadino che rincorre i formigoni chi ci sta qua che è coda che si può dire schiamparino 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 sindaco di Torino schiamparino schiamparino che la devo raccontare questa passino passino avviene in centro a Roma l'indirizzo esatto è che si vicino piazza Coppelli lo becchiamo sempre che cammino ogni volta abbiamo una banca abbiamo una banca mi ricordate una volta aveva parcheggiato male a fare su un posto dove non voleva parcheggiare io so subito che stavo tirando fuori il cielo a lui se ne è accorto è uscito subito questo è successo due settimane fa per paura di una foto pensate quanto il controllo popolare da parte di tutti i cittadini possa migliorare i comportamenti di coloro che hanno responsabilità di cariche pubbliche sempre per noi per un tempo limitato allora quello che mi sono quello che ho pensato in questi anni appunto che probabilmente sì ci sono i politici i politici corrotti sì ci sono boiati senza nome poi io pensavo appunto che fossero i politici corrotti in primissimi i nemici lo sono senz'altro ma ci sono dei poteri veramente molto più forti che manovrano questi soggetti non si parla più di Renzi è vero ne cercheranno un'altra per provare a metterlo a contrasto del Movimento 5 Stelle sono interscambiati certi soggetti hanno tirato fuori Renzi perché per un pechino faceva finta di pagherellino no a vitalizia proviamo ad un gruppo forse faccia le foto in bicicletta adesso sono come si dice le coppie a briscoli io non lo nomino più veramente quindi ne troveranno qualcun altro però ci sono veramente dei poteri molto più importanti i banchieri io ho fatto un enorme tour sulla connessione che c'è tra banca e politica perché poi anche quello il conflitto di interesse Berlusconi il conflitto di interesse a me che hanno solo Berlusconi le banche la politica pensate quanti politici pro di Draghi provenivano da Goldman Sachs da queste banche d'affari che poi sono finiti in istituzione oppure tanti altri politici escono dall'istituzione e finiscono a fare i consulenti in queste banche d'affari quindi molto probabilmente durante il loro mandato hanno favorito non il popolo non i cittadini ma queste banche d'affari che poi gli garantiscono magari l'assunzione e con una consulenza strapagata grazie appunto per premiarli del lavoro scopo che hanno fatto per le banche d'affari così per questo valiscono le banche che qualcuno lo controlla perché la politica è convivente questo pensate quanti posti di lavoro e quanti risparmi potrebbero farci avere la risoluzione del conflitto di interesse quindi vi dicevo ci sono tutti questi soggetti ci sono personaggi estremamente pericolosi però forse il pericolo principale per gli italiani sono gli italiani perché siamo veramente abituati a subire a farci prendere in giro manipolare da quel sistema mediatico così forte questa dittatura mediatica così bravi a distrarci con un pallone di calcio o con qualcos'altro impedirci però ci impediscono a ragionare di politica ci fanno credere che la politica sia veramente un'attività così lontana da noi quando è l'attività più vicina è meravigliosa la politica e stasera si è visto cioè in questo noi una responsabilità ce l'abbiamo il cittadino che si lamenta nei bar la mattina perché non funziona niente però non ha la capacità come stasera invece voi avete dimostrato di uscire di casa e spegnere la televisione che io dico sempre dovete spegnere sempre a parte quando ci vado io e scendere e entrare in una chiesa sconsacrata a parlare di politica è una roba meravigliosa vorrei che ti cambia la vita tutto questo ora si può fare con 5 stili in un altro modo io non la deciderai ma ti cambia la vita a me mi ha cambiato la vita in questi 5 anni infatti non vollerò mai la politica e non smetterò mai di sostenere il movimento in altro modo in altre forme che devo ancora trovare per i prossimi mesi dopo la campagna elettorale però è veramente meravigliosa quindi io vi invito enormemente alla partecipazione perché è qualcosa che poi ti permette la sera di tornare a casa forse più stanco forse con il fegato grande anche con la certezza che quello che hai visto ti fa male perché alle volte l'ignoranza è più comoda non vedi una determinata cosa o fai finta di non vederla e campi più sereno perché invece quando vedi certe ingiustizie se te le senti dentro dentro il corpo certi fanno male certe cose però torni a casa contento di quello che hai fatto soddisfatto di quello che hai fatto con la coscienza a posto che anzi la mattina ti guarda allo specchio io mi guardo allo specchio bene perché ho avuto la possibilità di comportarmi male come hanno fatto in tanti non l'ho fatto non l'ho fatto non perché tengo la morte perché il movimento delle regole perché ci sono tutti come questo gruppo di vera che si impegnano che mi conoscono per nome sanno dove abito per cui devo comportarmi bene perché abbiamo anche costruito una pressione un controllo popolare intorno ai cittadini e nelle istituzioni è una cosa incredibile incredibile per quello noi siamo in grado di fare una legge elettorale seria che permetterà finalmente di lasciare dei parlamentari una vera legge anticorruzione seria un pacchetto anticorruzione noi lo possiamo fare i costi della politica tutti parlano del del dottor non l'hanno mai fatto io noi abbiamo la credibilità di dire che faremo agli altri quel che abbiamo già fatto a noi stessi e sarà una gioia quasi fisica abolirgli vitalizi quasi fisica spingere votare per l'abolizione per il dimezzamento dei stiprenditi parlamentari o per l'abolizione totale diretta o indiretta di qualsiasi forma del finanziamento pubblico ai partiti perché il popolo italiano si espresse come il referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti tra quello che decide il popolo italiano non viene considerato no? ci considerano poco proprio perché siamo gli elettori non il cittadino fuori dall'estituzione gli elettori gli elettori io odio questa parola gli elettori siamo cittadini che attraverso le elezioni decidono appunto da chi farsi rappresentare tenendo presente che delegare e basta non ci ha portato da nessuna parte delegare e basta io ti voto poi vediamo non ci votare se dovete votarci e basta e poi incrociare le braccia e dire vediamo che fanno questi non ci votare perché è così duro quel sistema scardinale a livello finanziario partitocratico mediatico e non è che ce la facciano senza il sostegno popolare io in questi cinque anni senza il sostegno di centinaia di cittadini che mi hanno rassicurato mi hanno diciamo anche spronato io non ce l'avrei fatta a fare una serie di battaglie e a me che faccio vediamo che è comodo entro in aula magari c'è una denuncia entro all'altra settimana di poterini c'è qualcosa che non mi piace è comodo non alzare con la mano e sparsi gli affari provi restare magari davanti al computer e mi faccio gli attari miei non intervengo io non ce l'ho fatta in questi cinque anni ogni qualvolta sentivo che si parlava di un'ingiustizia relative ai cittadini prendevo la parola a poterini sbianchiamo regolarmente e di raffischi in sud da parte e da parte del pubblico democratico però sicuro però era più forte di me e era più forte di me esattamente grazie ad un controllo ad un sostegno che c'è stato da parte di tutti i cittadini questo abbiamo creato e siamo la prima forza politica al paese senza finanziamento pubblico senza controllare una televisione ma lo faremo senza avere giornali a disposizione senza una serie ma non è già un miracolo tutto questo un miracolo incredibile forse non ci rendiamo conto di quanto di che strada abbiamo fatto perché siamo ancora in mezzo a cammino ma ce la possiamo fare andare al governo ce la possiamo fare ripeto qui girerò tutta l'Italia sarà una gioia dire neanche sono candidato ma ci credo qui e vi dico che dobbiamo partecipare che chi si astiene purtroppo è complice purtroppo fondamentalmente i partiti politici c'erano a disposizione dei partiti di voti delle persone che ci marciano e ci campano alla politica ci stanno per cui meno persone vanno al voto e più sono forti quei partiti tradizionali coloro proprio che hanno spinto all'astensionismo tanti cittadini ma guardate che se avessero fatto bene i partiti di voi diciamo il momento di 5 stelle eppure sarebbe nato noi siamo nati perché non ci hanno ascoltato pensate se ci avessero ascoltato quando gli abbiamo portato via la governo Prodi delle proposte o andavamo nei comuni ascoltate siamo un gruppo di cittadini attivi abbiamo fatto un progetto realizzatelo no 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 perché la politica non è roba vostra è soltanto roba nostra vedete ci hanno trattato con arroganza Renzi è morto politicamente per l'arroganza che è una malattia enorme dei politici arrogante vorioso convinto io prendo faccio mi dimetto anzi lascio la politica se perdo il referendum la Gruber gli ha chiesto ma che ne pensi di Battista non si ricandida ottima scelta altro canto ci sono passato anch'io e quello ci sei passato mi piace tanto l'ambiente e vorrei salvarlo perché siamo al nord del mondo non proprio parallelamente per esempio l'Australia è ricca e perciò è al nord del mondo e se non che a sud e noi sparchiamo tanta energia la metà di quella che consuma tutto il mondo e e e e e e mi dispiace tanto perché per esempio a scuola un giorno mentre facevamo l'intervallo del mattino c'era un odore di fumo immenso e non riuscimmo a respirare e allora siamo tornati in classe e questa cosa mi dispiace perché l'intervallo è un posto per respirare e liberarsi dall'area della classe che è un po' superante e il senatore e il senatore grazie mi dispiace mi dispiace che è incredibile è incredibile è incredibile mi ricordo quel pensiero a quei giorni in quel bar oppure pensate io nel 2010 stavo facendo una missione di cooperazione internazionale in Guatemala dopo i suoi due anni e come volontario c'è venne un ragazzo siciliano però che lavora e lavorava lavorava a Milano che si chiama Malle di Stefano entrambi sono un pulmino in Guatemala parlavamo dell'idea del Movimento 5 Stelle le cittadine si fa Stato potremmo un giorno entrare in Parlamento entrambi siamo entrati in Parlamento entrambi nella Commissione Alfari Esteri siamo entrato due grandi amici veramente incredibile quel che ci è capitato e quel che è capitato a me potrà capitare a qualcun altro di voi io mi auguro che entrerà al posto mio qualcuno migliore di me che abbia anche più ardore che sia più preparato io me lo auguro con tutto il cuore questo è il Movimento quello vi dico di partecipare come partecipare in 2007 sperando di vedere un giorno un cittadino capace di farsi Stato certo non pensando che sarei finito in Parlamento io sono uno di quei ragazzi cittadini che guardavo i top show e mi veniva la voglia quanto mi piacerebbe andarci con una biglia e quattro ho avuto questa possibilità mi chiamano mi rendete conto di quello per voi ma è la politica questa ripeto la più bella attività che si possa fare ed è facile e per concludere vi dico che queste regole il fatto che ci ha tofinanziamo due mandati e poi a casa che non abbiamo da regolamento la possibilità di fare politica professionista per tanti tanti anni io spesso cito Napolitano che è entrato in Parlamento pensate nel 1953 64 anni fa ma casini non lo so da 34 anni ma tanti altri cioè per loro la politica è una professione pur di non perdere il lavoro io li capisco pure ontologicamente pur di non perdere il mio lavoro perché la politica è il mio lavoro e devo fare di tutto nessuno vorrebbe perdere il lavoro però la politica non è un lavoro è insieme provare a risolvere un problema della società sia un problema relativo alla viscina comunale di Ivrea o a una banca pubblica nazionalizzata per sostenere l'impresa a livello nazionale cosa che vuole fare il 95 stelle e abbiamo la possibilità di farlo perché nessuno non abbiamo quei legami con il sistema bancografico con qualche capitalista finanziario non ce li abbiamo e questa è la nostra forza non abbiamo preso 4.000 qualche grande lobby del petrolio per quello riuscivano a portare avanti un programma diciamo dal punto di vista energetico per uscire fuori dalle fonti fossili da qui a 2050 ce la possiamo fare oltretutto lo dicevamo bene prima porta posti di lavoro oggi investire un miliardo di euro in fonti fossili porta 500 posti di lavoro farli rinnovabili porta 14.000 15.000 un miliardo di euro in efficientamento energetico per rendere efficienti i nostri edifici porta non soltanto un risparmio non soltanto etica non soltanto un ambiente più pulito e tutto quanto ma anche posti di lavoro bisogna provare non soltanto il coraggio di investire lì quindi prendere dei soldi delle tasse dei cittadini questo è il bilancio dello Stato toglierli da una parte e metterli altrove in baldi susa si può fare un treno una ferrovia ad alta velocità per bucare una montagna e portare delle merci quando non c'è un treno che sfa Roma Matera e Matera sarà la capitale della cultura se non la c'è la cittadina evidentemente coloro che hanno riuscito sono stati diciamo così per evitare del queremo sono stati invogliati sappiamo bene come da coloro che avevano interesse nella costruzione di quella di quella linea di alta velocità e questo è il punto quanto è facile fare la politica che ci vuole risolvere il conflitto interesse che ci vuole risolvere la prescrizione per avere finalmente dei processi brevi e arrivare a sentenza non prescrivere non cancellare dei processi perché c'è ingiustizia in questo pensiero che ci vuole ci vuole Einstein no ci vogliono delle persone libere dei dei che già sono già stanno circolando appunto all'interno del nostro paese cosa ci vuole a risolvere a creare un reddito di cittadinanza perché oggi veramente una persona che ha 55 anni perde il lavoro che cosa fa cosa fa nella migliore delle ipotesi dell'ipotesi compra psicofarmaci che stanno aumentando dovunque appunto il consumo di psicofarmaci in questo paese dove aumenta soltanto tutto ciò che concerne con la paura aumentano le droghe lo dico sempre aumenta l'acquisto di armi e aumentano le persone che si vanno a giocare magari 100-150 euro la mattina uno slot machine e se ci pensate che cosa le persone che cos'è la droga coloro che hanno paura di vivere le armi coloro che hanno paura di morire e le slot machine queste tasse sulla disperazione coloro che hanno paura di riuscire a pagare una bolletta è tutto lì e ti giochi 100 euro e magari c'è qualche partito politico che ha fondato una fondazione che viene finanziata dalle concessionarie gioco d'azzardo lo vedete che è sempre così di quattrini io vi dico non votare 225 stelle verificate però da chi sono finanziati i partiti politici perché dimmi che finanzi e già ti dirò che politica faranno e questo è il punto enorme e questa è l'enorme differenza tra noi e tutti gli altri partiti politici concludo facendovi un esempio Riva il padrone del Riva finanziò contemporaneamente pensate come funziona il sistema sia Berlusconi che Bersani nel 2006 di era Bersani 98.000 euro forse italia 240.000 euro finanziamenti lesciti non illegali lesciti quella era l'idea di Riva che poi è morto io finanzio tutti dato che vince vince a me non mi interessa mi dovrà restituire il favore vi ricordate come si comportava l'ha visto il padrone Don Vito Collone faceva il favore arrivava quello ma cosa vuoi in cambio nulla basta che non te lo scordi basta che non te lo scordi poi arriva il momento in cui la politica restituisce il favore arriva che ripeto poi è morto con decreti ma i decreti sempre cittadini di Taranto e stanno a Taranto questi cittadini è lontano da qua ma sono mostri concittadini e muoiono ad ogni respiro non avete idea che cos'è un quartiere che si chiama Tampuri da quella parte ma ci saranno delle realtà estremamente inquinate e tranquille di scariche affusive e magari qualcuno che ci ha mangiato su quella di scariche il criminale che ha finanziato ripeto la campagna metodale qualche politico qua si sciolgono comuni per l'andrangheta si è infilata in Piemonte si è infilata sciolgono i comuni per mafia in Emilia Romagna poi in Piemonte sono stati sciolti per mafia in Europa a Caserta hanno sciolto un ospedale per Camorra un ospedale sciolto per Camorra ma non la sentite sta roba qua dentro bisogna soltanto dargli il movimento a me mi ha permesso ci ha permesso eravamo proprio persone che soffrirono qua dentro che sentivano un'inquietudine una voglia di fare e non trovavano una strada dove andiamo? io una volta votavo il partito democratico dove vado? poi sono cambiato sono una persona assolutamente nuova e mi sono disintossicato del tutto ma qualcun altro qua votava qualche altro partito credeva nella rivoluzione liberale di Berlusconi in cui li hanno fatti Equitalia pensate questo paese parte al contrario lo dico sempre la sinistra pulisce l'articolo 18 questo tipo del lavoratore e la destra crea Equitalia in questo paese fatta alla rovescia ha senso ancora parlare di destra e sinistra ha senso ancora io ricordo tra le prime cose che fece il Parlamento cinque anni fa mi invitò l'ambasciatore nordamericano si chiamava Tony mi invita nella sua residenza invita a me Casini e Cicchietto io Casini e Cicchietto dall'ambasciatore americano che sembra inizio di una barzelletta ce l'ho io Casini e Cicchietto arriviamo un po' e io gli dico all'ambasciatore americano con massimo rispetto che al governo avremmo ritirato un trucco dall'Afghanistan che essere agli altri degli Stati Uniti americano significa essere subito oggi direi all'ambasciatore che trovo vergognosa la decisione di Trump non c'è una provocazione e riflettevo poi ma quella guerra in Afghanistan di fatto è un esempio la voluta Fini che comunque non ci si è mai opposto che proveniva dalla destra sociale il movimento sociale italiano il partito che votava mio padre la voluta Casini democristiano Cicchietto ex socialista D'Alema ex comunista cioè tutti quanti allora veramente ha senso parlare di ideologie oggi nel 2017 parliamo di idee logiche soprattutto di libertà di portarle avanti guardate che la politica si può fare bene soltanto se si è liberi quella è l'enorme cioè quello è il punto e si è liberi soltanto se si vive in una comunità come il Movimento 5 Stelle e le persone ti conoscono sanno chi sei e ci si autofinanzia questa è l'enorme forza io vi invito soltanto a partecipare a entrare nell'ottica che cospirare è la più bella attività che si possa fare cospirare nella vita cospirare respirare insieme e respirare insieme quello abbiamo fatto stasera qua che sono le 11 tra l'altro tu Melissa ti sei mangiato gli gnocchi io non ho cenato nessuno mi hanno portato i quadri non mi portate vino oggi e qua dove è la pizze? ci avete che posso scrivere le pizzette? c'è le pizzette qui? c'è le pizze ci sarà da scopare si ripiegherà pure su un punto per fare i tavoli non è tutt'oro quel che è lucica che poi vedete staserata bella ci divertiamo non è tutt'oro quel che è lucica a volte è difficile è difficile costa fatica non hai voglia di uscire da casa è molto più comodo sedersi con il nostro sedere su quel divano e fare zappi è molto più comodo accendere la televisione per concludere con l'etimologia devi vivere significa vedere da lontano il movimento è nato per vedere da vicino per vedere da vicino però è necessario alzarsi da quel divano e non dimenticarsi mai che le gambe lo diceva Toro non servono per sedersi sopra grazie a tutti e buongiorno grazie a tutti grazie per la partecipazione buonanotte buonanotte grazie 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 grazie